la prima serata mi sono talmente innamorata di questo festival che ho deciso di tornare sono rimasta quindi complimenti innanzitutto a chiara ma noi chiamiamo volentieri al posto i luca bete non voglio creare un problema poi a striscia la mia terra è qualcosa che io amo svisceratamente qualcosa che ho nel sangue per cui quando vedo delle cose che non mi piacciono mi fanno arrabbiare molto non capisco il perché perché con poco potremmo veramente mangiarci il mondo e ci perdiamo in ancora in sciocchezze piccolezze spero che cambino questo è il mondo Grazie a tutti.